...dare. Contrasto riuscito, palla che rotola via. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto. E l'arbitro fischia e calcio di rigore. Chance dagli 11 metri per loro e l'arbitro tira fuori anche il giallo per il difensore. Giallo. Decisione che non fa, una piega Pier. Ha visto bene il direttore di gara. Non sbaglia. Grazie.